Selvaggia Lucarelli è colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di Barbara D'Urso, per un post pubblicato nel 2014 su alcuni social network Twitter e Instagram, nello specifico. Lo ha stabilito il 28 novembre il Tribunale di Milano, sezione X penale, in composizione monocratica, lo fa sapere il legale della conduttrice, Salvatore Pino, nel post, commentando un'intervista di D'Urso a Daria Bignardi. La blogger aveva affermato, l'applauso del pubblico delle invasioni alla D'Urso ricordava più o meno quello alla bara di Pribche. Un commento che il volto Mediaset non aveva per niente gradito e a cui aveva reagito presentando querela. Adesso il giudice ha condannato Lucarelli al pagamento di una multa di 700 euro, oltre al risarcimento del danno e delle spese legali sostenute dalla persona offesa. La presentatrice, ha aggiunto il suo avvocato, devolverà il risarcimento a una delle battaglie sociali che le stanno più a cuore, quella contro la violenza sulle donne. E il tweet, ultimo di una serie di commenti al vetriolo e sovente di pessimo gusto, continua illegale, e aveva indotto Barbara D'Urso a sporgere una querela che, dopo le indagini, aveva portato la Lucarelli a giudizio. Nel corso del processo, l'imputata si è sempre rifiutata di porgere le proprie scuse alla persona offesa. E ancora, Barbara D'Urso aveva evidenziato come il commento della Lucarelli fosse gratuitamente offensivo, basato su fatti falsi e manifestamente incontinente, travalicando limiti della libera manifestazione del pensiero per ledere direttamente l'altrui reputazione. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 30 giorni.